Ci sono novità sulla sparatoria avvenuta durante una cerimonia nel Vesuviano. Come riporta il mattino a quella festa erano presenti anche i bimbi, che avrebbero assistito alla lite e agli spari In seguito a quell'episodio, furono arrestate due persone, tra cui un pregiudicato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan La sparatoria provocò il ferimento di una persona. La lite avvenne tra invitati di due diverse cerimonie Uno dei soggetti, avrebbe fatto un torto a un bimbo presente alla festa, ed era stato invitato a chiedere scusa Al suo rifiuto, l'altra persona coinvolta avrebbe prima detto tu non sai a chi appartengo, poi, tenendo vicino a se il bambino offeso dalla lite, avrebbe estratto la pistola dalla tasca e fatto fuoco una sola volta, gambizzando il rivale Le telecamere hanno ripreso la FUGA in auto, nel panico generale, e il fuggi-fuggi di decine di persone E poi, vediamo la prima volta, 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 vediamo